L'affidabilità è certamente una delle voci più importanti da parte di chi è alla ricerca di un'auto nuova che fa un investimento nelle quattro ruote, vuole avere a garanzia della bontà del proprio acquisto, la certezza di non dover passare. Spesso guai e magagne, ma soprattutto di non frequentare officine e meccanici. Recentemente sono stati raccolti i dati provenienti dall'Ocu, l'Organizzazione dei consumatori e degli utenti, che ha stilato una classifica in cui ha messo in evidenza il grado di soddisfazione degli automobilisti circa la percezione di affidabilità delle proprie vetture. Tutti vogliono avere un'auto che duri a lungo nel tempo, ma non sempre questo si può realizzare. Le ultime posizioni. Per formare questa classifica, è stato preso in esame un campione composto da più di 40.000 automobilisti europei, ed è saltato fuori. Come una delle case meno apprezzate sul piano dell'affidabilità italiana, l'Alfa Romeo. La casa automobilistica di Arese ha raccolto un totale di 88 punti su 100, un dato che la pone tra gli ultimi posti della speciale classifica, in compagnia di altri due marchi autoblasonati, Land Rover e Tesla, anch'essi a quota 88 punti. C'è chi ha ottenuto un ponteggio inferiore in questa speciale rassegna, infatti Jaguar, 87, Volvo, 86, DS, 86, BMW, 86, Subaru, 86, e Honda, 86, sono i veri fanalini di coda. Tutti brand affermati e di prestigio, che tuttavia non hanno soddisfatto appieno gli utenti europei. Le migliori Fiat, Opel e Seat hanno ricevuto un gradimento medio, ottenendo rispettivamente 89 punti, mentre un gradino sopra troviamo appaiate. Renault, Nissan, Citroën e Peugeot, in un gruppo da 90 punti che si avvicina alle posizioni di più alto soddisfacimento. Alla fine, la palma delle auto migliori di questa graduatoria se la spartiscono le case giapponesi e tedesche. Per tutti quanti il miglior brand è l'Axas, che ha ottenuto un prodigioso punteggio di 97, sfiorato dalla casa sportiva di Zuffenhausen, Porsche che si ferma a 96 punti. Sul terzo gradino del podio ci va il colosso Toyota con 95, mentre si ferma in quarta posizione Audi, che ottiene ben 94 punti su 100. Conclusioni. In media, i clienti europei si sentono più soddisfatti del proprio investimento dando fiducia ai prodotti automobilistici tedeschi e giapponesi, salvo alcune eccezioni. Infatti, se da una parte Lexas e Toyota risiedono nei primi tre posti, Subaru e Honda sono i fanalini di coda. Stesso discorso per Porsche e Audi, che godono di maggiore stima rispetto a BMW, che invece non ottiene ottime impressioni in termini di affidabilità. Grazie a tutti.